ciao ragazzi questa è la nostra vettura la solita civic maltrattata inquadro questa parte perché lo scorso luglio in questa zona è stata applicata il nostro coating eagle cioè la base di partenza la versione che possono applicare anche i privati ne ha passate di tutti i colori sono stati utilizzati vari vari pre lavaggi forti questo su questo tetto c'era il t 22 adesso sta agendo il pre lavaggio un blizzard force molto alcalino e molto concentrato massaggiamo effettivamente si rompe già il velo d'acqua questa zona lo lascio agire qualche minuto e poi proviamo qualcosa di piuttosto eccoci qui ragazzi quindi abbiamo visto l'effetto di un trattamento un pre lavaggio molto alcalino adesso vogliamo esagerare qui ho del cromobril puro forse potete vedere la fatto che sia leggermente gelatinoso lo spruzziamo e agitiamo come ho detto in altri video questa è una cosa che non farei mai su nessuna vettura ma siccome è la mia una possibilità di fare dei test molto estremi lasciamo in posa qualche secondo e poi risciacquiamo è ancora da risciacquare bene ma potete vedere da soli l'effetto bidding che c'è davvero eccezionale nonostante l'attacco brutto che appena subito e sono praticamente alcuni mesi tenete conto da luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo oggi sto registrando il primo aprile quindi entramo nel nono mese in cui il prodotto sulla vettura